Grazie. Mercoledì 21 ottobre, Sant'Orsola e compagne. È il 295esimo giorno dall'inizio dell'anno e ne mancano 71 al termine. Il sole sorge alle 7.35 e tramonta alle 18.15. La luna si leva alle 13.11 e tramonta alle 21.43. Mentre si trovava quale capitano generale a Candia, viene eletto d'oggi Antonio Venier. Sembra che la sua sia stata una nomina di compromesso, in quanto i 41 elettori non riuscivano a mettersi d'accordo. Infatti, il Venier mancava da Venezia da ben sette anni. Le previsioni per domani. Permangono condizioni di tempo stabile, con probabili iniziali foschie, locali nebbie e nubi basse in pianura e qualche fondovalle in successivo dissolvimento. In seguito, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino. Nel corso del pomeriggio, tendenza a sviluppo di annuvolamenti a partire dai settori più occidentali della pianura e sui rilievi, ma generalmente senza precipitazioni associate. Possibili nuove riduzioni della visibilità dopo il tramonto. Temperature minime senza notevoli variazioni o in locale aumento. Massime in ulteriore aumento o localmente stazionarie. Temperature minime senza notevoli